buona sera a tutti ben ritrovati con podismo e atletica ovviamente abbiamo che abbiamo lasciato per un quasi un mese circa senza la nostra trammissione ma adesso riprenderemo con le manifestazioni che nel frattempo non ci sono interrotte anzi si sono sono aumentate notevolmente e quindi ripartiamo dall'inizio proprio di agosto con la rana running è una manifestazione diciamo che a broglio si consolida ormai per il terzo anno consecutivo con un certo successo al di là diciamo della parte forse meno piacevole quella che a fine gara qualche atleta ha trovato la sorpresa nelle auto che sono state diciamo un pochino derubati di alcuni oggetti e denari questo chiaramente ha un po' leggermente offuscato la manifestazione che nel suo complesso comunque è risultata molto molto bella molto appassionante fra l'altro spettacolare se le immagini daranno diciamo la realtà della della manifestazione sicuramente molto bella impegnativa perché poi tutto veniva realizzato all'interno diciamo di un frutteto quindi la cosa gradevole ecco intanto diciamo i preamboli per quanto concerne le gare del settore giovanile che ovviamente erano non particolarmente numerose ma questo sappiamo il periodo estivo è così e quindi di conseguenza diciamo che ancora quelli che non sono in vacanza altri che sono rientrati o altri che desiderano fare un po' di corsa chiaramente riescono ad andare ad andare avanti ecco dicevamo per quanto riguarda la corsa della rana running che gli organizzatori della festa della rana di di broglio oramai sono consolidati nel realizzare questa competizione che vediamo ancora all'interno chiaramente la giornata era particolarmente anche calda che ha un po' indotto molti concorrenti anche a rifocillarsi costantemente nelle nel percorso la presenza anche di atleti provenienti dall'umbia che hanno un pochino anche aumentato la presenza del settore giovanile insomma fatto sta che la manifestazione si diciamo si è disputata con tutti gli auspici di una grande di una grande gara estiva sette chilometri per quanto riguarda il settore assoluto e direi anche un numero di partecipanti discreto perché considerando diciamo la il periodo particolarmente diciamo vacanziero insomma avere un centocinquanta atleti non sono non sono così pochi quindi questo ha fatto sì che la manifestazione abbia avuto anche un suo risultato e anche da un punto di vista tecnico direi ottimo livello la presenza di atleti della polisportiva chianciano della polisportiva polisportiva poi della chianina del del fiorino eccetera che hanno hanno sicuramente alimentato anche la competizione qui intanto vediamo anzano poi vediamo fatichenti martinelli gli atleti questa è una discesa che portava a questo frutteto in mezzo veramente a vigneti frutteti quindi sicuramente questo verde un po anomalo fra virgolette nel periodo estivo che ormai siamo abituati a vederlo un pochino più raramente proprio perché la siccità di quest'anno ha un po imposto anche luoghi molto più asciutti ecco che vedete proprio in mezzo a questi meli sicuramente uno spettacolo fuori da normale anche se poi gli atleti hanno detto che la corsa in mezzo anche ai meli era particolarmente impegnativa perché a volte gli appoggi non erano così così sani così funzionali rispetto alle reali condizioni intanto vediamo anche il gruppetto delle donne molto agguerrito perché qui se la giocavano la sceni la barneschi la uliveri e quindi era una lotta 3 particolarmente impegnativa qui diciamo i viali che venivano realizzati all'interno della del frutteto che poi ritornavano intanto vediamo la gatto bicio anche del filippide poi ecco vediamo che i concorrenti qui siamo un po contro sole come vedete quindi le immagini riescono un pochino a dare l'immagine un pochino più offuscata però sicuramente molto sempre molto bella ecco che invece una delle delle varie salitelle che erano composte nella competizione che acquiiamo ritorniamo sempre nelle nel frutteto sicuramente bello direi queste che sono le immagini che anche io diciamo preferisco che diamo orsini che insegue l'atleta della dell'umbria una giovane atleta e poi gli altri che seguono a ruota chiudiamo il giovane viola violi che sta conducendo spagnoli poi ecco l'altra treta che della dell'atletica diciamo capanne qui la olivieri la barneschi e la cenni nello spazio di un metro se la stanno giocando perché chiaramente la gara non è particolarmente diciamo facile e quindi devono un pochino giostrare un po' con queste variazioni di ritmo nel nei rettilini che sono nelle diciamo nei corridoi tra i frutteti e poi anche le curve che ci possono essere intanto vediamo stiamo risalendo un pochino nella parte diciamo anteriore del percorso dove il nio la tiglia quindi dato uniamo guidelli fabio guidelli che purtroppo è stato uno degli sfortunati di coloro che sono stati derubati insieme a cenni genziana intanto abbiamo martinelli poi filippo chiolini anzano ecco questi sono un po le gli atleti che stanno e qui taus zaccaria con la maglia verde e poi attiglio niola che ovviamente nelle previsioni era lui il favorito anche se ha dato filo da torcere il giovane zaccaria che diciamo è cresciuto tantissimo in questi ultimi anni e quindi sta dimostrando la sua potenzialità poi si è allungato molto anche da un punto di vista fisico mentre la tenacia la grinta e forse la forza di attiglio niva un po diciamo mettono da parte gli altri la volontà di poter reagire ovviamente giornata come dicevamo molto calda vedete nivola non imperterrito sale su questa leggera salita ma che poi si fa sentire perché il percorso di due giri su questo tracciato direi particolarmente interessante spettacolare ecco questo anche questa questo questa ripresa dall'alto che vede degli atleti che stanno inseguendo che addirittura c'è taus zaccaria che cerca di allungare nei confronti di attiglio niola ovviamente ha provato a assaggiare un po le caratteristiche delle delle persone e qui siamo al primo passaggio quando i due atleti transitano dalla zona della festa qui devono fare una specie di giro di boa per poter entrare poi nel percorso di amanzano che in terza posizione poi ecco martinelli che il giovane atleta diciamo senese che sta andando molto bene poi abbiamo visto occiolini treve graziani guidelli quindi dei paganelli direi che il meglio diciamo della zona era presente a abroglio poi vediamo vannuccini fatichenti che è leader delle grand prix poi ragazzini refi ecco bettarelli insomma sandro annetti che alterna giornate un pochino più veloci con altre un pochino meno chiaramente che stanno è leggermente meno motivato ma ancora la stagione è molto lunga ci sono ancora 10 gare del gran prix quindi pensate ancora quello che potrà succedere finiamo anche stefano sinatti poi ha detto la giornata particolarmente calda che sicuramente ha indotto molti anche a stare un pochino più tranquilli eccoli qui intanto abbiamo campani poi lelli filippo che si susseguono qui nella zona delle passaggio serboli poi ancora ecco che vediamo la olivieri che leggermente cerca di staccare le avversarie in questo caso l'avversaria e la genziana cenni che insieme a violi e poi vediamo anche volpi e la barneschi sempre sorridente insieme a marraghini quindi queste sono le tre atlete che sono scioli poi anche della menzana in siena poi casi e qui ecco quando escono gli atleti dalla zona della festa quindi una divagazione all'interno della festa che sicuramente ha dato un pochino più di vivacità che intanto abbiamo lacrimini poi tiberi che transitano ha dato un pochino più di vivacità alla competizione ecco la nicoletta sandarelli che sta piano piano guadagnando punti per la classifica del grand prix e questo l'abbiamo vista anche protagonista proprio l'ultima delle competizioni della zolfina dove ha vinto la gara ma questo mi daremo atto nelle prossime nelle prossime gare che intanto vediamo l'arrivo di attiglioni o la che proprio nel finale stacca il suo diretto avversario ecco che tavose zaccaria che ha fatto comunque una grandissima prova 25 10 25 31 quindi 20 secondi poi 26 10 per lorenzo martinelli al quarto al terzo posto fabio anzano della chianina che sta quest'anno è venuto diverse volte nelle nostre competizioni quindi sta dimostrando la sua potenzialità poi filippo occhiolini gare che potevano essere la sua diciamo le sue caratteristiche però ancora un po fuori fuori forma poi matteo paganelli che ci ha provato all'inizio a stare un po col gruppo di testa poi nel finale anche lui ha accusato un po e forse il caldo mattia treve che era insieme alla gruppetta di testa ormai anche lui inarrestabile quest'atleta ormai longevo da tantissimi anni nella breccia insieme a lui poi fabio guidelli vediamo che l'anno scorso era stato protagonista di questa competizione come quella del delle vertighe poi leonardo fatichetti è andato sempre molto bene poi i ragazzini vanno cini ecco vanno cini francesco nella precedenza poi i ragazzini poi in bare che il giovane in bare che dando molto molto bene classe 99 poi mirco refi alessandro annetti che ha preceduto mori e poi bettarelli stefano ecco che vediamo un tanto arrivare anche nella categoria dei veterani con stefano sinatti e altri atleti che vediamo burroni vediamo in questo compagni e qui l'olivieri vediamo l'atleta umbra che proprio nel finale stacca la più diretta avversaria la genziana cenni che eccola qui giunge l'altra guarda che poi hanno una brutta sorpresa anche loro le lei insieme a fabio guidelli insomma di trovare qualche cosa di non idoneo all'interno della propria diciamo macchina fin tanto vediamo anche la terza classificata per francesca barneschi sempre molto sorridente poi tiberi lucia sanarelli nicoletta che giungono al traguardo ecco quindi si susseguono un po anche le atlete del settore femminile molto molto agguerrite direi quindi una gara che ha dato molta vivacità alla competizione e qui intanto vediamo anche l'atleta del di siena che è sempre insieme a in questo caso qui giunge l'altra guarda poi abbiamo visto anche stefano sinatti via via si susseguono un po tutti i concorrenti ecco dicevamo che questa era diciamo la ventiquattresima prova del del grand prix che intanto vediamo le premiazioni degli atleti meglio classificati per quanto riguarda il settore giovanile tutti premiati con con coppe diamo molto sorridenti e poi intanto vediamo anche queste atlete fabbri un'altra setta che si è le prime competizioni quindi si stanno presentando alla alle premiazioni ecco che ancora si susseguono qui nella zona del del palco sotto un tendone mentre in giro già la festa stava diciamo andando avanti con una scena molto molto gustosa in cui diciamo tantissimi atleti hanno approfittato e poi qui chiaramente la premiazione degli assoluti che rispetto al regolamento iniziale è stato ancora più migliorativo quindi sotto questo aspetto che hanno ricevuto dei premi maggiori rispetto a quello che erano stati programmati all'inizio della competizione e che vediamo quasi tutti gli atleti hanno atteso con pazienza diciamo la le premiazioni assolutamente qualcuno cerca sempre di andare via per per tempo invece in questo caso qui erano presenti e questo fa onore un po a tutti i partecipanti ecco qui anche nella categoria dei degli argento vediamo l'ancillotto insieme a tonelli poi barbetti abbiamo visto via via si susseguono un po e guardi ecco vediamo anche ceccarelli atleti che stanno diciamo attendendo un po la loro il loro turno per ricevere le premiazioni qui siamo sul settore femminile categorie sempre molto sorridente direi anche diverse atlete presenti alla competizione questo badato atto anche al settore femminile che sta incrementando la sua presenza alle manifestazioni e adesso siamo passati invece alla corsa del santuario delle vertighe e qui diciamo che l'operatore Natale Mulas insieme a Caruso hanno fatto più di quello che potevano fare quindi li ringrazio sentitamente anche se poi in alcuni aspetti ovviamente forse anche il sole contro hanno indotto anche da parte degli operatori di avere qualche difficoltà comunque sia la gara diciamo è partita fra l'altro direi quasi 200 atleti quindi veramente un grande numero di partecipanti che ringrazio anche la diciamo l'opera di convincimento da parte di Menchetti di Sanarelli che ovviamente girano un po tutte le competizioni quindi sono riusciti a portare alle vertighe ma direi anche perché una manifestazione anche premiata particolarmente e poi è suggestivo nel santuario dove avete visto c'è stata una benedizione iniziale da parte del di padre francesco che simpaticamente diciamo ha dato un po a tutti diciamo la benedizione e l'augurio per questa competizione e qui tanto siamo partiti abbastanza velocemente perché una gara di circa anche qui sette chilometri direi inizialmente abbastanza diciamo tranquilla sul ritmo poi dopo c'è una parte di discesa e però dopo c'è la parte più impegnativa quindi tre giri che devono essere coperti con quel viale finale che porta al santuario delle vertighe quindi sicuramente molto molto impegnativo e anche qui la presenza degli atleti è stata diciamo molto massiccia soprattutto anche qualitativamente molto valida e abbiamo pensato di fare un due giri per quanto guardiamo per lo sguerri silvano nella categoria oro quelli ultra settantenni che abbiamo deciso di fare due giri invece che tre giri e questo forse è stata una cosa positiva anche se poi qualcuno si è ritrovato un mezzo che deve finire prima poi dopo ecco intanto una lunga schiera di partecipanti vedete proprio tanti milaneschi in questo gruppetto poi vediamo moreno sinatti sguerri serboli soldini di questo caso ecco poi vediamo lacrimini quindi atlete diciamo di che ormai sono presenti nel circuito del grand prix che stanno presenti in tutte le competizioni ecco qui vediamo ancora questo tratto di leggera di leggera discesa quindi qui c'è un po di recupero da un punto di vista proprio organico dopodiché si riprende nella salita che porta al santuario e lì diventa particolarmente impegnativa questo tratto di strada bianca che però sicuramente fatto piacevolmente quindi vediamo anche qui un po di verde intorno che non fa non fa male ecco vediamo mattini ritornata alle gare anche dopo un periodo di diciamo di vacanze ecco qui gli atleti che stanno facendo anche alcuni ma anche molti non competitivi che hanno voluto essere presenti alla competizione vediamo anche governini che sta preparando la maratona di new york questo atleta aretino quindi molti si stanno già stanno già affrontando una preparazione in funzione della gara qui frontale abbiamo visto poi casi e qui siamo nella salita che porta alla vertica vediamo la protagonista di la olivieri insieme a scenni genziana che sembrano invertite le posizioni poi dopo vedremo un po quello che succederà i barneschi sono sempre le solite tre atlete che stanno ecco qui intanto vediamo che graziani sta conducendo davanti a zaccaria in questo momento poi vannuccini poi abbiamo filippo occhiolini fatichenti ecco vediamo la lunga schiera dei presenti dei partecipanti che stanno risalendo questo viale che sembra vista così molto facile ma invece sta salendo considerevolmente poi dopo c'è anche l'impatto con la scalinata che in questo caso c'è stato luigi tonnelli proprio nelle finale che ha inciampato un paio di volte proprio nel finale quindi per poter fare questa volata nei confronti dei gli atleti della stessa categoria quindi per fortuna anche con qualche piccola scoriazione ma niente di particolare intanto ecco vediamo proprio che concorrenti sono costretti a fare un un ritmo un passo molto più breve rispetto a che come per esempio vediamo bernini che con le sulle leve lunghe chiaramente è maggiormente diciamo più in difficoltà rispetto a un brevi lineo ecco che intanto mazzarelli altro protagonista del gran prix che sta a lori l'abbiamo visto dietro lelli con la maglia con la maglia arancione che sta risalendo lì poi maggio maurizio vedete alzano pochissimo tutti i piedi poi vediamo che serboli poi vediamo violi ecco vediamo anche la bellardinelli ecco la bellardinelli che qui è attualmente al comando con un vantaggio di una diecina di metri nei confronti di scena di genziana e di olivieri che sono l'insieme quindi queste tre atlete sono proprio lì se la giocano nello spazio di pochissimi metri ma come dicevamo sono tre i giri da percorrere quindi diventa particolarmente impegnativa questa gara vedete la lunga schiera sono circa 400 metri da gioco in fondo a questo viale per poter raggiungere poi la scalinata è tutta in salita quindi diventa sicuramente una una gara molto molto faticosa che gli atleti però hanno assorbito in maniera ideale insomma ecco sotto questa questo aspetto che intanto che vediamo su seguirsi il passaggio dei vari concorrenti abbiamo visto anche la chiroberta poi a gennaio via via si con un po gli atleti molti anche atleti senesi presenti e qui intanto neanche barbetti poi lacrimini questo gruppetto insieme a felici poi ancora vedete tutti devono muovere un po le le braccia mattini desiste in questo frangente che ne costretta andare di passo anche perché se non sei particolarmente allenato questo accusi come come gara che vediamo ti bere insieme a nicoletta sanarelli che sanarelli insieme a menchetti che si hanno organizzato un po questa questa competizione con grande successo direi ormai si ripete costantemente c'è canibbi intanto a sguerri che transitano in insieme a milaneschi dicevamo questa manifestazione che ormai è giunta anche questa alla sua terza edizione e quindi direi un grande successo anche di questa di questa gara qui intanto vediamo la testa della corsa con graziani e taos graziani che cerca di scrollarsi di dorso taos ma non è così facile da poter da poterlo fare anche perché le caratteristiche di taos sono migliorate negli ultimi negli ultimi anni e quindi sicuramente un atleta che ormai ha avuto anche lui acquisito una certa esperienza ma anche graziani stando molto forte quindi una gara un po particolare anche se le distanze breve forse potreva favorire anche graziani però come dicevamo qui vedete vedete proprio uno sta correndo sull'avversario poi qui vannuccine fatichenti poi fabio guidelli che l'anno scorso vince insieme a cenni genziana questa competizione finiamo magi ecco via via ulivieri che cerca di recuperare quel gap che c'è fra lei la scenni e la barneschi ecco qui vediamo il ancora un altro passaggio e vediamo che taos zaccaria prende qualche metro di vantaggio proprio nei confronti di graziani nella salita poi vannuccini che in ottima posizione quindi al terzo posto poi fatichenti e guidelli quindi qui se la giocano per diciamo il terzo posto questi atleti che nello spazio di pochissimi centimetri sono lì poi vediamo ecco un bar che è andato molto forte insieme anche a banelli paolo direi la sorpresa di questo periodo poi taras insieme a graziani ecco poi sicuramente uno che è andato sempre molto forte ettore fontani insieme poi che vediamo anche è di mario donnini poi abbiamo visto abbiamo visto anche filippo occhiolini ecco via via si susseguono adesso chiaramente la selezione ancora più netta rispetto alla al primo passaggio e qui molto dovrebbe giungere anche al traguardo anche sguerri silvano che nella categoria oro dovevano effettuare due giri anziché tre come gli altri quindi è chiaro che qui la diciamo la gara si è sviluppata con la presenza diciamo di tanti soggetti variegati qui intanto vediamo ecco vediamo violi che sale sulle gradinate e poi vediamo la la bellardinelli roberta che sembra che abbia una marcia in più rispetto alle altre concorrenti qui intanto vediamo l'allungo da parte di taos zaccaria proprio agli ultimi 400 metri nei confronti di graziani emanueli che a questo punto qui deve soltanto accontentarsi della seconda piazza intanto ci sono anche alcuni doppiati della competizione e ormai diciamo che i giochi erano fatti per quanto riguarda la vittoria finale al terzo posto fabio guidelli che era un pochino più avanti poi abbiamo visto anche transitare fatti kenti poi abbiamo visto anche refi donnini di maro eccola vediamo anche la seconda donna in questo caso qui queste no queste sono atlete che sono ancora doppiati ecco che fontani ettore fontani ettore è andato molto bene poi menchi rogai che domenica addirittura saranno impegnati con la corsa del trofeo sironofili che intanto vediamo l'arrivo con 25 e 40 di zaccaria taos poi ci sono alcuni oro che poi al secondo posto 25 e 47 per quanto concerne graziani emanuele poi 25 58 per quanto concerne ecco che vediamo la volata fra guidelli e vannuccini a spunta guidelli su vannuccini non che vanno cini in crescendo anche lui poi fatti kenti giungere al traguardo 26 55 eccoli qua poi panichi vediamo nella categoria oro atleta che viene dalla misericordia aglianese poi 27 invece magi un altro oro bare che è andato molto forte 27 04 che la spunta nei confronti di luca banelli poi vediamo giacomo ragazzini vedete abbastanza provati questi atleti poi ecco abbiamo visto prima refi poi ragazzini refi donnini ragazzini occiolini filippo poi ancora violi qui vedete proprio giungere al traguardo gli atleti che si sosseguono in questa particolare gara anche stefano sinatti ecco ricordiamolo alle prossime intanto che scorrono queste immagini ricordiamo i prossimi appuntamenti per quanto riguarda la circuito del grand prix mentre la settimana prossima ovviamente vi presenteremo ancora altre due competizioni quella del prato magno run e poi la corrilerchi che intanto vediamo anche giungere genziana cenni ecco qui dicevamo domenica 3 di settembre a montevarchi trofeo sironoferi una delle manifestazioni ormai più collaudate e storiche del val d'arno poi andremo il 10 invece il 9 anzi a bergamo ci saranno i campionati italiani assoluti della 10 km su strada dove la presenza di almeno 7 8 atleti della polisportiva policiano cercheranno un pochino di portare alto il nome di questa società retina poi il 10 invece la corsa del gira sole nel campeggio di figli neval d'arno dove sono posti in premio premi 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 diciamo di propri soggiorni nei campeggi di questo di questa catena diciamo di di campeggi che sono distribuiti un po in tutta italia